L'ambizione di un contratto europeo, e questo è il motivo dell'attesa di Riccardo Cervi sulle proposte di rinnovo formulate dalla Silicas Avellino, e la pista internazionale arriva prepotente in queste ore per il centro reggiano, sempre più lontano dai radar della Scandone. Oltre al possibile ritorno a casa, alla Chris Nebono Reggio Emilia, sotto 3-2 nella finale scudetto con Milano, prende corpo l'idea di un trasferimento in Germania, con Cervi che è monitorato dal Bruce Basket Bamberg di coach Andrea Tenchieri, che per la seconda volta consecutiva ha conquistato il titolo tedesco, superando per 3-0 in finale l'Ulm. Il Bamberg, che parteciperà alla prossima edizione dell'Eurolega, si sarebbe inserito con decisione nella corsa a lungo Bianco Verde, che potrebbe ritrovare in Germania l'altro reggiano, Niccolò Melli. Con Cervi fuori dalla lista dei confermati, la Scandone guarda già avanti, con la pista Marco Cusin, o con un cambio di prospettiva nel ruolo del centro, e un italiano in più tra gli esterni rispetto alla stagione appena conclusa. In tanto è ufficiale il rinnovo di Marty Lunen, con l'ex Cantù che sarà nuovamente protagonista al pala del Mauro. Del Mauro che ieri sera ha ospitato lo spareggio tra Virtus Pozzuoli e Agropoli, con la promozione dei Bianco Verde in Serie B. Finale di 80-84 per il Cilento, che determina un'ulteriore crescita del basket agropolitano, con i cugini della polisportiva, protagonisti in A2. Nobile, Wisnic, Esposito e Trapani sono decisivi per il salto di categoria del Cilento, che supera una Virtus Pozzuoli a cui non bastano i 27 punti di orefice e i 16 di Lewis, in un Del Mauro che è stato splendido teatro della finale per la Serie B.